L'inizio della fine. Bel titolo per un nome della missione. Ok. Olivia sta usando la torre per scavare un accesso al loro mondo. Potrai impedire di aprire il portale disattivando i filtri di induzione della torre. Ok. Cosa è successo nello scorso episodio? Praticamente Olivia ha deciso di aprire un portale per entrare negli inferi. E noi ovviamente dobbiamo bloccarla. Ok. Andiamo. Ok. Un po' molto buio. Cazzo. Uh. Nuova arma? No. È il plasma. Ok. Ricordo molto Doom 3 questo livello già dall'inizio. Molto buio. Molto piccole le stanze. Ok. Apri porta. Dai apri. Dicevo cagate. Ok. Vedo. Vedo già un po' di robe. Ok. Come faccio ad arrivare là? Mi sa di qua eh. Molto probabilmente di qua. Scendiamo e proviamo a vedere un po' a scoprire qualcosa. Allora intanto qua c'è un segreto. Di sicuro è un segreto. No. non viene considerato segreto. Perfetto. Vabbè. Andiamo avanti. Allora. Ok. È un salto un po' pericoloso. Ok. Perfetto. Allora. a parte gli imp che salgono i muri. Qualcos'altro di utile? Ok. Mi sa che non è possibile lì. Forse è possibile però qua così. Sì infatti. Allora. Dobbiamo andare di qua mi sa. Ok. Che cos'è? Premiamo e... Sfida runica. Uso il fucile a pompa per eliminare 15 imp entro lo scadere del tempo. Ok. Va... Va bene. Proviamoci. Perché no? Ok. Sembra tipo quando si entra nelle... nei portali quelli che hanno messo in Diablo 3. Ok. Proviamoli. Allora. Dobbiamo eliminarne 15. e abbiamo 10 secondi. 2 secondi per uccisione. Ok. 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 Va bene. Impegniamoci. Ok. Quanti ce ne mancano? Attenzione il tempo! Non mi spawnate così lontani bastardi. Ok. Credo che sia finita. Ultima. Perfetto. Vuoto. Aumenta il raggio di assorbimento degli oggetti caduti. Ok. Quindi ci sblocca praticamente ricompense. Vabbè. Li dobbiamo tenere. Andiamo avanti. Finalmente. Possiamo tornare a giocare. Qua non si può andare. Ok. Andiamo di qua. Munizioni ovunque. Di solito se ci sono munizioni ovunque è perché davanti a noi ci sarà una... Wow. Carino. Salve. Ok. Qua. Lanciarazzi! Eh sì! È lui! È lui! Perfetto! Abbiamo anche il lanciarazzi ora. Ovviamente andremo ancora in giro per un po' con il pompa perché mi sta piacendo veramente tanto come arma. Andiamo... Wow! Proviamolo subito va. Funziona! Ah! Oh! Basta! Aia! Fai male! Ok. Devo usare l'altro potenziamento e cercare di distruggere Perfetto. Ucciso. Vieni qua stronzo. Dove scappi fottuto imp? Ma ha! Pugno in faccia. Wow! Dove è volato via? Vabbè. Ok. Ce n'era un altro qua. Madonna sti due colpi. Oh. Hanno rotto un po' il cazzo. Perché ne spawnano? Oddio. No! Basta! No! Non ho colpi! Ah! Aiuto! Ah! Fa male! Tieni la pistoletta! Sì vabbè ma hai un range assurdo! Oh mio Dio mi ha fatto volare via. Vieni qua! Sto ronzo! Troppami vita! Perfetto! 50! Ok. Finito. Oh. Un po' di calma. Un po' di calma. Finalmente. Allora. Dove dobbiamo andare? Mi sa di qua. Vita? No. È il robottino! Non scappare! Bastardo. Ok. Dove è andato? Lo dobbiamo... Oddio. Ok. Ok. È là sotto eh. Noi lo sappiamo. Prima o poi lo andiamo a prendere adesso. Munizioni. Ok. Prendiamole. Qua? Ok. È bloccata. Vabbè. Ma intanto ormai lo sappiamo. Dobbiamo scendere qua. Voglio prendere quel potenziamento. Ovunque esso sia. Nient'altro qui? No. Uh. No eh. No. Niente di nascosto. Eccoti qua. Salve. Cos'hai da offrirmi? Vediamo. Direi di prendere la vampa incandescente per la Pulsken. Grazie robottino. Qua? Ok. Niente. Mi sa che dobbiamo tornare su da dove siamo arrivati. Andiamo. Salve. Crepa. Anche te? Ci sei? Alla festa? Mi dispiace. È già finita la festa. Armatura. Andiamo a prenderla. Ok. Dobbiamo distruggerlo. Inizierà il casino. Infatti. Inizia la musica. Siamo pronti. Ok. Beh. Ok. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Che sono pronto. Kaboom bitch. Ok. Pam. Beccati il pugno della morte. Ok. Devo provare il potenziamento. Non so cosa ho fatto. Ok. Ok. Tipo un... Un'onda. Vabbè. Non ho ancora capito come utilizzarla al meglio. Ma... Prima o poi l'autorizzeremo bene. Ah, però. Ne fa di danno. Ok. Buono, buono, buono. Il danno lo fa. Avevo visto qualcosa qua. Andiamo a vedere cosa c'è. Allora. Parte... Potenziamento. Armatura. Sempre buono. E colpi. Nient'altro? Niente di nascosto? No. Sembrerebbe di no. Ok. Torniamo sulla nostra strada. Che, tra parentesi, non so dove sia la vera strada. Credo, immagino, qua. Robottini. Uh. Che cos'è? La torre sarà disattivata solo temporaneamente. Potrai rimuovere sicuramente ogni lente. Sgancia con attenzione i cadini. Con attenzione? Rilevata contaminazione di cieli. Non è necessario distruggere la produzione di energia. No, no. È necessario. È necessario, ovviamente. Poveri zombie. Guardateli. Che poveracci. Ok. Altra roba? Niente? Vabbè. Capita. Il problema ora è... Altra roba da scoprire? No, eh. Non sempre, ovviamente. Però... Fa piacere qualche volta scoprire qualche segretino. Senza dover andare troppo in giro. Ok. Usciamo. Devo capire come entrare lì dentro. Mi interesserebbe molto. Perfetto. Boh. Vabbè. Andiamo di qua. Ok. Porta. Perfetto. Non mi ha preso quest'armor. Mmm. Oh. Cos'è quello? Ah! Un potenziamento per la vita. Oddio. Lasciatemi prendere il potenziamento. Non rompetemi le balle. Via la gamba. Stronzo. Ok. Direi che stavolta potenziamo l'armatura. Così siamo 1-1-1. Tra parentesi. Stanno arrivando nemici. Ok. Ma che vuoi tu? Ok. Qua. Addio. Già finiti? Nient'altro? Mmm. Parte vita. Ma non ci serve. Ok. Possiamo uscire. Non so dove andare. Sinceramente. Non so proprio dove andare. Allora. La. Probabilmente la. Perché ovviamente abbiamo distrutto il nido. Quindi. Infatti. Niente da fare qui. Wow. È un po' blu. È un po' fa... Un po' fastidioso sto blu. Oh Dio. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Kabum. Esplodi. Quello che meriti. Ok. Pugno. Oddio. Raggio laser incoming. Madonna. Ma li ho one shotati tutti gli zombetti. Ok. Dobbiamo distruggere il nido. Bam. Wow. Armatura pretor potenziata. Ok. Ovviamente dura per il suo... What the fuck? Ok. One shotta qua. Ok. Ok. Torniamo laggiù. Due volte che ci muoio per quell'elettricità. Mi son già rotto il cazzo diciamo un po'. Ok. Usiamo bene sti cazzo di lanciarazzi. Uccidiamo subito il bemut. E poi speriamo. Perché mi son proprio rotto i coglioni sinceramente. Rilevate la breccia di mondia. Ok. Vaffanculo eh. Non bisogna cederli sotto. Ok. Gli zombie sono andati via. Vieni. Sono qui i zombi. Sì vabbè. Gli ho attirato 200 razzi. Solamente per dire. Ok. Dove è andato? Che non lo vedo più. A parte stink del cazzo. Ok. Ne vedo un altro qui. Muori. Dove è? Dove è il bemut? Wow. Ciao. È crepa. Ci vediamo un altro giorno. Wow. Dove è andato? Ciao. Muori. Prendiamo la super velocità. Povero zombie che è rimasto qua in mezzo a guardarci. Mentre tutti gli amici morivano. Mi sa che avevo rivisto... Il bemut. Mi sa eh. Stava scendendo. Ok. Finiti? La musica c'è ancora. Quindi qualcosa c'è da uccidere ancora. Chissà cosa. Ah eccolo. Ciao. Crepa. Oh. Finalmente finiti. Alleluia devo dire. Alleluia. Perché non ce la facevo più veramente. Ok. Andiamo. Prendiamola. Armi. Ok. Un altro di quelle cose lì. Ma è proprio questo che vogliamo fare noi. Vogliamo distruggere l'energia infernale. Ok. Preso tutto. Altra roba da attivare. Nient'altro? Quello? No. Ok. Possiamo andarcene. Il problema è. Qual è la strada? Cosa cazzo sei? Ok. Non mi piace sto nuovo nemico. È comparso così da nulla. Tutto tale. Ed è anche musica ad alto livello. Quindi. Wow. Ok. Sì vabbè ma. Cazzo. Speedhack lo chiamavano. Dove scappi stronto. E basta scappare così. Sei noioso. Tam. Tieni lì il pugno. Sì vabbè ma ti avvicini i scappi. Madonna. Ok. Sì dove vai ora? Eh vai là. Perché tanto. Oh finalmente sei morto. Evocatore. Ok. Più che evocatore il suo nome è Speedhack. Perché quella roba lì è da Speedhack proprio. Ok. Cosa c'è ancora di mostro. No. Ok. Dobbiamo. Oh no. Dobbiamo di nuovo uccidere l'evocatore. Cazzarola. Ok. Sarà un po' palloso eh. Poi ovviamente. Lasciate nei commenti. E mi dite. Che è tipo. Il mostro più stupido in tutto il gioco. Boh. Ci faccio la figura di merda praticamente. Dove cazzo. Sì ma. Vabbè ma. No. Non è evocatore il nome. Il nome è Speedhack. Guardatelo. È questo. Oh basta. Ok. Credo che comunque sia il primo che devo uccidere. Per il semplice fatto che uno con un nome evocatore. Non è che poi evoca. Ecco qua. Ciao. Muori bastardo. Ok. Eliminiamo tutti questi demoni. Stiamo attenti di nuovo. All'elettricità. Ghiaccio. Qualsiasi cosa sia. Perché ha rotto il cazzo. Ci sono già finito dentro. Tre volte. Mi sono un po' rotto i coglioni. Ok. Ancora mostri. Dove. Come. Quando. Perché. Ma che? Lo vorrei uccidere però. Riluttante. Ok. Ok. Ah. Non si può uccidere con la cosa. Ok. Perfetto. Vabbè. Il checkpoint l'abbiamo ottenuto. Quindi. Andiamo avanti. Salve. E crepa un po'. Ok. Non so se sto andando dalla parte giusta. Però. Comunque. Noi troviamo i potenziamenti a random. Quindi. Diciamo che. Dovrò continuare sempre a giocare in questo modo. Andiamo. A cazzo di cane. E. Perché c'è qualcosa di familiare? Ah. Perché prima era lì. Dove sto puntando. Adesso siamo qui. E c'è di nuovo lì. Ok. Va bene. A posto. Però io prima voglio esplorare. Perché. La bellezza di questo gioco. E soprattutto. L'esplorare. Il mondo di gioco. C'è veramente tanta roba da fare. A parte. Le stronzate. Diciamo. Trovare. Le bambolotte. Ci sono veramente. Tantissime cose da poter fare. Come ad esempio. Chissà se. Sotto qua. C'era un'altra strada. In effetti. C'è qualcosa qui. E ho fatto bene a venirci. Anche se non contiene niente. Segreto scoperto. Tra parentesi. Ok. La mappa. Ok. E nient'altro. Vabbè. Diciamo che ho fatto bene. Ho trovato un segreto. Quindi ci sta. Andiamo avanti. Ok. Dobbiamo distruggere il nido. Andiamo subito. Visto che. Sarà un po' complicato. Perché ormai i nidi. Iniziano a spawnare. Tutti i mostri sempre più nuovi. Ad esempio. Adesso abbiamo sbloccato l'evocatore. Probabilmente. Ci sarà anche l'evocatore. Ed è un po' una palla. Da distruggere quello. Ok. Siamo pronti. Venite fuori. Bastardoni. Dove siete? E madonna. Immortale. Eccolo qua. L'avevo detto che c'era. Qualcosa. Ahia però. Fai male. Tu dove credi di scappare? Sì ma. Non prende. Oh. Addio. Ham. Oh 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 oh. Evocatore. No un altro. Oh mio dio. Via 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 via. Wow. E che cazzo di velocità hai te? Vabbè ho già capito. Te muori così. Mi dispiace ma. Wow. Salute ridotta. Così. Da dove? Perché ridotta? Cos'ho fatto di male? Mi sa che mi sono autocolpito. Finito? Ok. Là sopra. Qua sotto o là sopra? Direi qua sopra. Mi piace di più andare su. Ok. Mori. E la madonna. Distrutto. Vuoi crepare? Poverino. Non stavo neanche colpendo lui. No 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 no. Attenzione eh. Oh questo qua ha funzionato prima. Ho trovato l'arma. No. Non cadere. Ok. E' rotto il cazzo. Cazzo solo 5 colpi del pompa. Ok. Ci siamo calmati finalmente. Prendiamo tutto quello che c'è da rubare. Oh. Il bottino. Salve. Cosa ci vendi oggi? Oggi ci vendi. Oggi ci vendi. La raffica ricercante per il lanciamissili. Dammi qua. Vai via. Ok. Nient'altro. Vabbè. E' stato utile venire sopra. Ok. Codex anche. Perfetto. Ok. Le piante. Chi se ne frega. Sinceramente. Non è che ci vedo molto utilizzo. Nel nostro gameplay diciamo. Dai dai dai. Vita. Grazie. Ah. Però mi servono colpi del pompa. Cazzo. Devo dire che è l'arma che uso di più proprio. Ok. Nient'altro qui. Ok. A posto. Mi sa che dobbiamo andare di qua. Oppure dobbiamo tornare indietro. Salve. Ok. Non so dove sto andando eh. Mi piace esplorare. Vediamo cosa c'è qua. A parte un imp che buca come al solito dal nulla. No. Niente. Andiamo. Armatura. Che. Vabbè. Siamo full. No. Ci mancherebbe. Ah no. Ok. Ah ma siamo tornati dove eravamo prima. Ok. Vabbè facciamo faste e torniamo indietro. E eh. Andiamo dalla parte opposta. No. Dovevo salire vero. Ok saliamo. No. Cristo Santissimo Beato. Ok. Ci siamo. Andiamo là. Ah ma potevo solo tornare indietro. Vabbè Amen. Ormai l'abbiamo fatta sta cagata. Infatti forse credo che la via principale era questa. Entriamo qui. Vediamo. Ok. L'altro bagaglio della torre. Non mi ricordo il nome. Torre Argent. Lì. Disattiva la torre Argent. Ce ne manca uno. Abbiamo passato decenni a perfezionare la scienza per l'umanità. Abbiamo bilanciato la loro energia infernale con la nostra scienza. Rendendola utilizzabile e sicura. Abbiamo risolto una crisi energetica mondiale. che nessuno avrebbe potuto risolvere. Funziona. Non puoi fare questo. Allora. Cosa abbiamo qua? A parte sta roba. Porta chiusa. Apriamola. Munizioni. Ma credo di essere full. Praticamente. Altra roba. Bambolette magiche. No eh. Wow. Ok. Un po' più seria la situazione però. Ok. Sono molti nemici. Aiuto. Certo che siete un po' troppi oggi. Soprattutto sei veramente un po' troppo te. Ah. L'ho sentito il colpo. L'ho sentito. Oh ma c'è anche l'evocatore. Ovvio no? Wow 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 wow. Fai male. Fai male. Aiuto. Possiamo ammazzarlo in questo modo? Sì che possiamo. Amo. Un po' Muori. Morto? Sì. Perfetto. Eliminati tutti. Ok. Metodo migliore. La motosega. Ok. Andiamo avanti. Ma dove? Oh. Armatura. Ok. Cosa c'è qui? Apri porta. Ok. Lo faccio. La la la. Cosa c'è? Eccolo qua. L'ultimo credo. Se vuoi fermare la nostra produzione energetica. Allora vi basterà distruggere quest'ultimo filtro. E l'energia Argent non esisterà più in questo sistema solare. Torneremo al punto di partenza. Non vedo problemi. Ok. Tutto a fuoco. E? Io ho idea di quello che ho appena fatto. Olivia è ancora viva. Rilevo i suoi segni vitali nella torre Argent. Dobbiamo andare là? Ha una traccia energetica unica che possiamo seguire. Ok. Andiamo. No. Ci siamo allora. Non c'è nient'altro da fare. Ok. Andiamo. Oh finalmente. Fine missione. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Questa volta è stato anche un po' più complicato. Molti più nemici sono comparsi. Come sempre lasciate un like se il video vi è piaciuto. Commentate anche lasciando scritto se vi piace questo nuovo capitolo, un nuovo reboot di Doom. Perché a me sta piacendo un sacco ed è divertentissimo. E ovviamente iscrivetevi al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.